oh ciao oggi è il 23 agosto 2022 è sera è il tramonto adete faccio vedere il tramonto qui c'è l'emballe de fieno una mucchia e la c'è castelfidardo il monte conero osimo loreto se vede tutto anche re canadi addirittura e te faccio vedere prima iniziamo famo passasse a scatola dell'uscito station wagon e poi te faccio vedere il sole che tramonta guarda un po il sole che tramonta vediamo un po le macchie solari se si vedono no è troppo accecante ho ripreso le macchie solari da giù la sbocca del fiume muso una sera ho ripreso proprio due macchie solari nel sole ma enormi purtroppo il video è andato perso perché mi si è scancellato sulla scheda sd che ha fatto errore errore dati l'ho matucata buttarla via pensa che sfortuna avevo ripreso il sole perché c'era il filtro della chimica nell'aria e faceva da filtro e se poteva riprende bene senza senza aloni senza luci dell'obiettivo guarda un po qui c'è i girasoli tutti secchi rincigniti e qui stiamo stiamo in collina non è che si può annaffiare non si può irrigare in collina nei campi non si può irrigare vedi che scatola del lucido quella lì la smart e quindi non potendo irrigare i campi non piove mai allora guarda un po guarda che spacchi guarda che spacchi vedi qui c'è i girasoli tutti i marci fradi e là c'è Castelfidardo la città della fisarmonica dietro si vede il monte conero si può notare guarda è la città di Castelfidardo ecco mi si è impannato l'obiettivo mi si è impannato l'obiettivo a posto di più più di così non posso zoom a posto non si vede un cavolo ecco mi si è spannato purtroppo non posso più zoomare qui che c'è qualche problematica di zoom a posto qui il campo pieno di girasoli secchi e il sole il tramonto osimo la città di osimo la volevo zoom però non posso zoom alla dietro cui alberi se vede Loreto e lì c'è Recanati qua la gloria mia vedi la macchina qui c'è l'erba medica qui che sta a cresce un po piano piano a malapena perché tanto non piovendo mai come fa a cresce comunque dai se ci berà dell'umidità della notte che ti devo dire qua vedi Recanati lassù dietro c'è il colle dell'infinito questo qui è un altro colle verso il mare questo non è chiamato il colle dell'infinito e qui l'emballe de fiè che belle un bel po guarda guarda quante belle sembrare le fiè adesso io il mio obiettivo in questa registrazione è affavolare il drone le profuma le profuma che profumo suave questa paia pensa che nonno bibbo ha dormito in una stalla durante la guerra era prigioniero l'anne meso prigioniero un tenastalla per sei anni pensa per sei anni prigioniero un tenastalla e e dopo quando è scappato dalla prigio e tutti gli anni della sua vita si è sognato il fieno la paia perché è stato mezza la paia sei anni pensa pensa che che atroce realtà senza vedere la famiglia i figli niente la moglie niente pensa sei anni prigioniero e due anni di guerra pensa che macello pensa che schifo che roba brutta è che hanno subito nella seconda guerra mondiale a pensare che adesso la terza si sta avvicinando sempre di più comunque c'è tanto vento c'è tanto vento in quota e il drone però resiste in quota ma qui piano piano un attimo mi devo me devo un pratichi perché tanto che non lo guido più però non è non è purtroppo non è purtroppo ideale anzi non è consigliabile questo cellulare qui l'ho detto tante volte però lo dico ancora una volta già a giancarlo che mi ha detto che mi dava l'S10 suo usato che non usa più però ha detto adesso ad agosto i primi di agosto mi fa sentire scomparso dalla circolazione come quel gabriele pacca no su twitch che mi ha preso per culo alla grande ha detto io c'ho una stilo e che ho è incidentata la devo cambiare la devo buttare via e allora vieni a prendi pezzi a fa a fermo a fermo e io ho detto guarda io se vieno a fermo roba che dopo non ce sei non te trovo una fregatura cucciolina fa ha detto allora se non te fidi non te fa niente dopo però io ho detto allora io ho fatto capire ma uno come fa a fidarsi io vieno giù faccio tutta quella strada ma chi sei chi non sei non mi mandi né mail niente nessun account tutti account falsi e come se fa a fidarsi uno infatti dopo è scomparso dalla circolazione giancarlo nandro scomparso dalla circolazione ha detto adesso penso io il cellulare il cellulare per il drone allora lo sai cosa ti dico chi fa da sé fa da soli faccio da solo me lo compro pei cazzi mia il cellulare te li capito te li capito si si me l'ho capito però se una persona ti dice una cosa e dopo non la mette in pratica non è che è de parola capito una persona che non è de parola non non ci si può dare nessun credito a quella persona però e ci avrà avuto forse qualche problema che te devo dire allora adesso io qui questo questo drone di terza mano che io sono la terza mano e danni era la seconda mano e prima è stato un'altra persona che l'ha cambiato l'ha sostituito l'ha preso il 2 e il secondo è stato danni l'amico mio che me l'ha venduto da 200 euro allora 200 euro si 200 euro e io l'ho finito a pagare adesso lo uso però usandolo con questo con questo cellulare non si potrebbe perché guarda adesso faccio vedere anche se non credi a niente però guarda eh adesso io attacco questa presa usb aspetta eh oh adesso ci aspetta eh forse è questa eh chissà è questa guarda devo aprire questo qui perché questo è impermeabile è enorme non è compatibile eh alla alla misura eh del telecomando guarda non gli si fa non gli si fa allora io devo devo prendere il cavetto questo qua questo non è abilitato aspetta il cavo questo qui mi pare è questo o questo qua è questo guarda allora prendo questo cavo qui ora l'è incazzato quello si è fermato al partito un incazzato nero allora se credene che ho sbandato sono andato a finire in mezzo al campo e invece non ho sbandato questi scappano fuori dalla fabbrica dopo che hanno bestemmiato tutto il giorno tutta la vita di loro prima d'andante la cassa da morto bestemmino addio la madonna tutto un continuo dopo se vedene uno mezzo al campo gli pare un alieno però non è che si sbagliano di tanto eh allora guarda guarda non non si riesce a a ficcare il cavo dentro non si riesce a ficcare il cavo dentro adesso io devo fare così devo fare così devo fare così devo fare guarda che roba guarda guarda come madonna devo guidare sto drone dopo la gente dice eh non li fai più i video col drone non li fai più i video col drone e io ho detto aspetta un attimo che per mucchiare i quattrini ci vuole il tempo eh mica sulla banca d'italia appena posso comprerò un cellulare fatto bene come se deve mille ecco dove sarà compatibile il cellulare al telecomando perché sennò non è così non è compatibile vedi mi tocca a guidarlo cucì guarda guarda che roba vedi che non c'è bocca ci vedi che non c'è bocca o non ci vedi adesso io prendo la batteria del drone prendo la batteria del drone qui vediamo un po' quale carica guarda un po' questa la batteria ce n'è una solo che carica quindi il video viene scarso ma però niente non è allora guarda il drone ormai è vecchio non li fanno più questi chi è roba vecchia ci vuole il 2 me ci vuole il 2 allora guarda l'obiettivo è impannato adesso ho spannato con un dito però non è dopo è impannato e vedi è pieno di polvere un macello c'è seria da dare una soffiata però io non c'ho né un'officina né un garage né niente non c'ho niente per dare una soffiata ecco guarda eh allora adesso io lo accendo lo accendo il drone guarda un po' de quant'è che non lo accendevo più su drone oh guarda voi altri mi dite ma perché non fai video col drone ma perché ma io l'ho spiegato mille volte che non c'ho il cellulare compatibile al telecomando quante volte lo devo spiegare io non lo so guarda è incredibile è incredibile tutto un continuo una continua sconfitta allora fai un po' vede l'Sd in tu cavolo è adesso l'Sd in tu cavolo l'ho mesa oh no miseria se non c'ho l'Sd c'è poco da fa l'ho mesa chi l'ho mesa l'Sd in tu cavolo è tu cavolo è oh porca miseria guarda tu guarda tu l'Sd in tu cavolo l'ho mesa aspetta eh allora fammi vedere pure quello un cazzato niente non non c'ho l'Sd per farlo volare o per far registrare per registrare non c'ho l'Sd oh non c'è se può credere l'ho preso l'ho messo in te la scatola non c'è più oh eccola oh eccola chi l'Sd guarda l'ho trovata dentro lo zaino vedi vedi eri contento e contenta se non c'era vero a voglia allora guarda un po' la inserisco dentro chi oh adesso ci adesso ci adesso ci adesso però c'è un sacco di vento capito me può me può venire dietro e me chiappa ante gli occhi me ciega attesa di si contento e contenta però basta essere contenti del male degli altri è basta basta allora allora vediamo un po' il programma ecco guarda come lo devo guidare guarda guarda come lo devo guidare guarda che roba guarda chi il cavo non collega si collega il cavo però però account non collegato adesso mi dice oh che palle pure questo adè che non lo posso far volare lontano account non collegato che rottura non hai effettuato l'accesso quota a distanza di volo limitate a 30 metri errore bussola assicurarsi che non ci siano oggetti metallici calibra eeeh c'ha tutti i problemi questo chide primo è il primo drone tutto un problema calibrazione guarda io fa la calibrazione guarda ho posto calibrazione completata adesso dovrei dovrei collegare l'account account accedi e adè chi si ricorda chi si ricorda l'account adè che account c'ho inserisci il numero di telefono o email allora avanti vediamo un po' inserisci password hai dimenticato la password che macello torna e accedi torna e accedi allora vediamo un po' la posta elettronica la posta elettronica eeeh un attimo do cavolo è adesso gmail allora eeeh eeeh ah mannaggia la miseria guarda tu guarda tu che quanto tempo mi fa spreca per tutto un continuo tutte se password c'è fa smatti il cervello eh c'è fa smatti il cervello tutte se password oh password contro password e sopra password non ci capimo più niente eccolo qua allora dj mini 3 pro adesso c'è costa mille e passa euro non so che roba allora niente niente oh non posso fa niente reset password creator c'è scritto tutto in inglese non ci si capisce una parola porca miseria guarda tu guarda tu clic allora parola d'ordine parola d'ordine e cos'è parola d'ordine adesso allora immetti la nuova di nuovo la nuova password allora la nuova password non corrisponde alla password precedente allora allora ecco ma guarda tu ma guarda tu a posto a posto è fatta eh adesso lo collego mi si è spento? aspetta eh intanto il sole ha tramontato mica aspetta a me oh account e password non validi oh porca miseria non c'è se può crede non c'è se può crede non c'è se può crede hai dimenticato la password è un'altra volta sta faccenda che ho fatto che merda di realtà torna e accedi mamma mia mamma mia niente dai il forso procedimento qui e allora gmail la password conferma non corrisponde alla nuova password inserirla nuovamente allora aspetta eh niente non corrisponde la password è confermata non corrisponde alla nuova password inserirla nuovamente oh vediamo un po' niente non non funziona non funziona niente non funziona che merda dai lo faccio volare lo stesso va eh lo faccio volare lo stesso non mi interessa che delusio sto drone sto drone allora tutti i droni che ho avuto è stato una delusio accedi niente non me ne frega altitudine niente se allontana solo dei 30 metri basta allora uno due tre fammo partiva allora andiamo vediamo solo castelfidardo in volo a posto 50 metri di volo e basta se uno non è iscritto se non ti iscrivi non puoi fare niente guarda adesso devo stare attenti al filo della curente se no me lo spacca il drone tanto questo è il drone uno è quello meno meno evoluto a pensare che quella volta era al massimo questo era spettacolare guarda che roba guarda che roba guarda che roba guarda va guarda da lì le rinzecchiti o i girasoli puretti a posto più del cuscino non sa lontana perché non essendo scritto guarda che roba Niente, dai, andiamo verso il castello, va. Se no pudevo arrivare là, con le riprese pudevo arrivare a Castelfidardo. Che delusione. Guarda, eh, l'emballe dei fiei, vedi? Vedi, massimo 30 metri d'altezza. Guarda che roba, oh. L'escuro nero, eh. Guarda l'escuro nero. A posto. Adesso vado oltre là, oh. Adesso vado oltre là. Così mi vedi? E mi stai a guardare, monto su delle... delle imballe dei fiei. Se la fa, mi sa che non la fa. Mi sa che non la fa. Vedi, guarda. Guarda un po'. Eh, no, no, non la fa qui. Mamma mia, le profuma. Le profuma se imballe. Ah, che profumo dei anni Ottanta, dei campi. Ah, che buon profumo. qui non si fa a montare su. Niente, niente. Che delusio. Adè, prima che si fa notte fonda, stacco il drone, lo faccio atterrare, e poi riprendo Castelfidardo, e il penombra, che ancora la videocamera, lo riprende bene. Ecco, ah. Adè lo faccio atterrare, eh. Vediamo l'atterraggio. Vediamo l'atterraggio. Guarda, eh. Guarda un po'. A 30 metri d'altezza, eh. Vediamo, guarda. La Gloria a 30 metri d'altezza. Guarda, guarda. Vedi? Adè il panorama. Il panorama che non si vede niente, se non lo sbasso la videocamera. Vedi Castelfidardo? Il Monte Conero dietro, dopo il mare, se vede, vedi. La casa di... De... De Fra Brabo Citrullo. Vedi, abbandonata, lo sfascio. Ecco. Famolo atterrare, va. Eh. Allora. Gliela farò? Lo faccio atterrante la testa mia, che c'ho la pista di decollo e di atterraggio, che mi andavi via i capelli. Uno, due, tre. Guarda, eh. E no, miseria, oh. C'è il vento in quota, eh. C'è il vento in quota, però hai visto? Guarda un po'. Guarda che roba. Il cellulare quanto è grosso in proporzione al collegamento del cavo. Io ho trovato, io e Dani, ho trovato un cavo più lungo, però non si vede niente, sia in questo, sia in quell'altri cellulari. E in più due prese prolunghe per tenesto a bestia, però purtroppo non è compatibili e non si può fare niente, inutile. Se devi cambiare il cellulare è finito lì. Quando c'è i quattrini cambio tutto. Sai i quattrini se fa tutto, senza non si fa niente. Ecco. Adesso riprendo la notte che sta entrando a far parte di noi ancora una volta. Basta che non ce l'avemo un telcore imbastardito la notte. Guarda un po'. Guarda Osimo. Osimo. Vediamo un po' se riesco a zoomare che ogni tanto lo zoom e vabbè ogni tanto va male. Aspetta, eh. Oh, vedi? No. Si è spannato, vedi? Lassù l'acquedotto. Guarda. E il palazzo l'ecomostro. Invece Castelfidardo, eccolo qua, guarda. A me mi piace più Castelfidardo perché c'è un po' più alberi, però una cosa... Una volta era pieno di alberi Castelfidardo. Vedi? Sant'Agostì. Dopo c'è... San Francesco. Lassù San Benedetto. Dopo c'è Santo Stefano. Lì in due è che campo io. Aspetta, è lì. Lì in due è che campo io. Due è che campava nonno Bibbo. Vedi? Guarda. La sua ne c'è sulle luci. Guarda, eh. Dietro il Monte Conero, vedi? La collina del Conero. Dopo qua l'acquedotto di Castelfidardo. C'è una prolunga dell'acquedotto, è un ricevitore. E qua c'è il palazzo De Paolo Sopra, l'inventore della Fisa Armonica. Vedi? Guarda che bel paese. E qua... E qua c'è l'ex convento di Benedettini che sta sul Monte Conero. Adesso è un albego a quattro stelle. Lassù c'è un albego a quattro stelle. Questa è la parte della figuretta, le fornaci. E qui è il centro di Castelfidardo. Vedi quanto è bello? Guarda che roba, guarda. Hai visto? A posto. Adesso così pori girasoli, morti, rinsecchiti, marci, fradi, siccità totale, completa, assoluta. Oggi ha messo l'allerta meteo, non ha fatto una goccia d'acqua, una. Niente, niente. Io mi sentirei molto in difetto se ero un meteorologo. Mi sentivo proprio mi vergugnavo un due che camminavo. Dicene sempre che piove non fa proprio un cazzo. Guarda, guarda, siccità totale, guarda, drastica, guarda, assoluta, guarda, la ma dentro chi? Anziché non mi moccica un tuo pettino, un birichino che si trova qui dentro. Però i birichino vanno in tei posti che c'è l'acqua, non vanno lì che è secco. Allora, adesso io sistemo il drone e poi ti saluto. Ti saluto. Chi è? Cos'è questa roba qui? fa vedere le modalità a posto. Purtroppo la delusione è che devo comprare un altro cellulare perché questo purtroppo non è possibile continuare così per fare i voli. Quindi scordatevi i voli e scordatevi i video c'ho il mare se cambio videocamera perché metto quella nuova che ho comprato sto pagando a rate e quindi per chi è che vuole vedere nuovi voli e attendete dovete attendere che compro un cellulare che c'ho nella lista Amazon l'ho messo nella lista Amazon allora dovete attendere che lo comprerò e prima che lo compro non vedrete più nessun video di drone però se non vi può frega di meno a me non mi può frega di meno di meno di te che non ti può frega di meno di te quindi non te preoccupa e non c'ermano male anche se a me mi piaceva fare qualche volo oh non mi si spegne più cos'è oh adesso ci allora tanto dopo lo devo mettere in carica non le levo la schedina piccola perché se no roba che me la vada a perdere dopo è fatta finita costa 30 euro quella schedina piccola senti se sentia una bambina che giocava in campagna qui io me trovo in campagna è bello è bello a me mi piacerebbe una casa di campagna mica dentro l'urbanizzazione occulta o sta che c'è tanti loro signori che hanno vinto il super nalotto non c'è qualcuno che ha una casa di campagna qui nei dintorni che mi può contattare mi dice ma te ti fa fare il custode viè viè accampati ti fa fare il custode ti fa pure fatica viè accampati ti accampi te tu moglie eh cosa non c'è che non c'è nessuno loro signore che ha una casa di campagna che mi fa da custode vuole più questa scatola tutte le volte la scatola mi impiccia dopo mi se ruina mi se umidisce è meglio la scatola del combi che avevo comprato ad Andrea Cappacei quella volta l'avevo comprato a 250 euro con lo sconto di risparmio virtuoso Stefano il cugino di Andrea a Roma e poi Cristia dopo ce n'erene tre le persone che mi hanno fatto lo sconto in quel drone sennò custava 700 euro il combo il combo il combo il combo cosa dirò però quella volta custava la cucina adesso non si trova più questo qui il DJI mini non si trova più c'è solo il 2 e c'è chi è che c'ha il 3 c'è chi è che c'ha il 3 che il 2 se lo ha santo lo scantinato per marci allora se c'avete qualcuno qualcosa che non non tenete più me lo date a me che io lo uso io li uso tutto un continuo però purtroppo quando potrò mi farò un altro cellulare un po' più piccolo perché almeno posso manovrare il drone ecco se no con questo che è enorme non posso quindi Giancarlo che mi aveva detto che ce l'aveva lui che lo buttava via l'S10 ha detto io butto via il mio te do il mio tanto cosa spendi a fare i soldi per un cellulare in altro che c'hai questo allora allora io ho detto vabbè dammi un po' il tuo tanto te hai quello l'ultimo vabbè i primi d'agosto te lo mando l'hai sentito più è sparito dalla circolazione forse sta al cimitero Giancarlo che fine hai fatto che fine hai fatto però però lasciamo perde lasciamo perde io come Gabriele Pacca che ha detto io c'ho la macchina incidentata ti do tutti i pezzi della stilo tutto quello che ti serve vieni su te la regalo la macchina tanto da buttare via c'hai pezzi buoni dopo è scomparso dalla circolazione tutte puttanate tutte cazzate però uno mica pretende mica pretende se le persone ti dicono una cosa deve essere quella che dopo sparisce dalla circolazione tocca andare su chi l'ha visto non va bene a non essere parola se tu dici una cosa non puoi più in giro una persona o te prendi gioco di lei per quale motivo per prendermi in giro nei video e non va bene non va bene non bisogna prendersi in giro non bisogna prendersi gioco delle persone tantomeno dei sentimenti mai 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 e poi mai cercamo da fare i bravi i buoni e volemoci bene gli uni gli altri e chiedemoci scusa siamo fatto qualche danno qualche cosa brutta contro le persone contro la dignità delle persone e tutto guarda stavo a guardare Castelfilardo che stasera si vede molto bene perché oggi c'è stato molto vento in quota ma non ha portato niente è il nulla assoluto dicevene tutti le meteorologie tutto allerta meteo piogge dappertutto le marche piene di pioggia guarda tutto secco rincignito tutto fradio tutto che impesta c'è l'aria che impesta un caldo da morire ma che dice ne ho sta gente c'è pieno tutti per il culo io sono abituato ad essere preso per il culo però la meteorologia si dovrebbe vergognare sta gente che i meteorologi si dovrebbero vergognare di camminare dovrebbero camminare a testa bassa per dicere un sacco di cazzate e pazienza dai guarda sto palo tutto si incrasta tutto guarda che roba non ho fatto mai caso di questi palichi tanto questi alberi se non è trattato il legno si scrosta tutto a posto io te saluto e alla prossima e mi raccomando non pretendete più da me i voli col drone perché quando potrò però ci vuole il tempo quando potrò che riuscirò a comprarmi un cellulare che sta nella lista Amazon ce n'è due tipi o l'uno o l'altro mi comprerò quando potrò lo farò ma finché non lo posso fare non potete pretendere altri voli fine sente un po' il grillo oltre il motore della macchina guarda Castelfidardo come si vede bene sono le 11 di sera le 23 guarda guarda quanto è illuminato Castelfidardo peccato il rumore della macchina se no si sentiva il grillo guarda Osimo Osimo e Castelfidardo guarda il varpino e a a a a a Grazie a tutti.